ciao ragazzi benvenuti in un nuovo video di super s4 vi farò vedere un tutorial un tutorial di come mettere l'intro anche l'outro per il canale se avete un canale no se volete avere una intro è un outro questo qui è un tutorial come farò vedere allora prima cosa per la intro basta che cercate intro no text 3d come c'è scritto qui copiatelo è questo qui questo che c'è la linea rossa qui e qui trovate tutte le intro tutte le intro che trovate per esempio questa che forse qualcuno lo conosce che è anche modificabile vabbè basta che andate su condizioni poi copia link basta che schiacciate copia link dove c'è scritto copia link e dovete andare in un sito in cui si chiama convertitore video mp4 questo qui è il primo il primo che trovate quello che c'è scritto convertitore video youtube convertitore in mp3 mp4 av qui è il sito dove convertiti i video dove puoi scaricare l'intro però attenzione ci sono delle pubblicità in cui non ti fanno scaricare sempre l'intro però si deve schiacciare se dovete schiacciare per due volte back o tornare indietro perchè questo qui non so con quelle pubblicità quindi dovete schiacciare mp4 formatti video e poi qui incollare link tenendo premuto tenete premuto e qui c'è scritto incolla e voi lo schiacciate qui dove c'è scritto dove c'è la scritta incolla e qui vi darà il link poi basta che schiacciate start e vi partirà la... la... il... vabbè vi... ci sarà il... il processo per il video quindi voi basta che... qui stiamo preparando la tua... il video sta per essere processato poi io ce l'ho già l'intro quindi non è che... e qui dove c'è scritto su download ad ehm... schiacciate e vi scaricarà la intro tutto per l'outro invece funziona diverso l'intro l'outro schiacciate il link andate sul sito in cui c'è quella... l'outro e poi lì dove... iscrivervi nel canale in cui quello che è... quello che è stato a creare no? quell'outro vi farà... dovete iscrivervi a lui e poi vi farà scaricare l'outro quindi adesso vi faccio vedere come ho fatto io ecco... allora... leviamo questo eh... ve ne diamo eh... ve ne diamo allora per esempio... un esempio l'outro sono delle... questi qui sono dieci vi fa vedere tutte le auto... quelle preferite voi qui ci sono i numeri delle auto che preferite per esempio se preferite l'outro dieci basta dove c'è scritto dobblo ad schiacciate il link dove c'è scritto dobblo ad svg e vi farà andare nel sito a volte ci sono degli errori invece di mettere... se voi scegliete dieci vi fa scegliere sette l'outro sette eh... ecco... come adesso quello dice che qui è dieci e qui ci sono tutte le... le... allora la dieci... c'è il numero dieci su New Vegas e li schiacciate dollo ad now e così potrete scaricare le in... l'outro quindi ragazzi spero che questo video vi sia utile per avere delle intro-outro come volete voi eh... commentate, iscrivetevi, lasciate un mi piace e ciao ragazzi, alla prossima ciao 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 ciao